non so se io sono un grande rumorista ma non so se riesco a farlo bene come lei provo sentiamo così è così in effetti era venuto molto più sexy a lei così sembra proprio uno che vicino a un albero sgracchia esatto esatto ma non so se hai seguito il fenomeno nel senso che ci sono le magliette, i cappellini, gli adesivi c'è la gente che si sta tatuando il logo c'è anche quello bello è Hawk Tua Great Again esatto esatto senti ma invece c'è chi sta facendo lobbying presso la Marvel affinché Hawk Tua diventi la nuova super eroina dell'universo Marvel che super potere gli dai hanno già fatto i mock up con intelligenza artificiale c'è lei con i lambroni e il falco sulla spalla tutta vestita con la tutina della Marvel tutto questo è molto è tragicomico perché tragico perché siccome la povertà dei contenuti di internet tocca sempre dei nuovi dei nuovi low degli all time low però è anche comico perché mi piace il potere che ha internet di depotenziare qualsiasi cosa probabilmente se ci fossero stati i social network ai tempi di Hitler sarebbe finita tutta con un meme del cazzo non sarebbe successo niente eh chissà l'avremmo preso tutti per il culo con la sua roba degli ebrei con le minchiate lì vabbè ma la viralità secondo me lì è data dal fatto che lei è fantastica cioè le viene benissimo ha un sorriso bellissimo è presa bene si sta divertendo con le amiche poi vabbè il contenuto è sessuale ma minchia manco avesse detto no? ma sì allora sono quelle cose lì che se le fai su internet diventano polverone se le fai una sera al bar con gli amici ridi e finisce lì esatto in America si sono scatenati i bigottoni quelli del movimento trad wife trad wife trad wife è un'altra di quelle cose gli sfigati che dicono ma come siamo conciati le donne di oggi come sono conciate eh brave brave trad wife poi aumentatevi poi chiedetevi come mai siete piene di corna rivalutate l'octua per il bene della vostra coppia pretacchioni sigla grazie a tutti grazie a tutti benvenuti amici ciao ciao bitcoin italia podcast proprio lui proprio lui ciao guy brush ciao ciao guy brush ho suonato il flauto spit on that thing spit on that thing guy brush ho suonato il flauto questa qua era facile voglio vedervi sei stato bravissimo sei degno di Ennio Morricone se fosse ancora vivo Ennio Morricone ancora non me l'avevano detto ma giustamente alla sesta stagione certi risultati li ottengo ma sai che forse è vivo Ennio Morricone gli ho fatto una gattata a morte no 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 purtroppo no mi sa che è morto vero considera che credo il 50% delle ninne e nanne che canto ai miei figli sono musiche di Ennio Morricone beh vabbè del resto veramente un grande queste sì che sono le eccellenze italiane mica mica il Bitcoin Italia Podcast esatto bravissimo e va bene va bene però non saremo un'eccellenza ma tant'è sono sei anni che quotidianamente no quotidianamente settimanalmente in perterri ti pubblichiamo un nuovo episodio quotidianamente invece quello sì lo possiamo dire senza timore di essere smentiti lavoriamo alla costruzione di questo episodio che voi ascoltate tutti i giovedì alle ore 17 che è un po' il climax la fase finale del lavoro di preparazione che invece appunto è quotidiano a proposito 25esimo episodio caro Guybrush della stessa stagione secondo me secondo me è il 26esimo che senso nel senso che dopo il 25 c'è il 26 secondo me e quindi questo è il 25esimo sì l'ultimo era il 24esimo hai ragione ho sbagliato io guardo adesso e ho un perché io dovete sapere cari ascoltatori che ho un file in cui mi scrivo le cose che vorrei raccontare e quello del 25 è vuoto ho compilato quello del 26 ok ok non mi fare vacillare così se mi togli le mie poche certezze hai ragione ho guardato adesso ho scritto tutto nella puntata del 26 bene bene bravo Guybrush bene perché tu sei l'uomo del futuro come Satoshi Nakamoto amico mio senti Guybrush a proposito di uomini del futuro di città del futuro dobbiamo lanciare ufficialmente l'invito a tutti coloro che vivono o a Bologna o nelle zone immediatamente limitrofe o comunque che hanno voglia di trascorrere una piacevolissima giornata quando sabato 29 ovvero sabato questo fra due giorni per chi ascolta la puntata subito subito di giovedì quando esce perché c'è un appuntamento che giunge alla sua seconda edizione e merita veramente di essere vissuto stiamo parlando del plan Bolo 2024 sabato 29 giugno presso i giardini Margherita di Bologna un appuntamento molto figo è un pomeriggio passato appunto ai giardini spaparanzati a sorseggiare birra con tanti altri bitcoiner veramente bello e quest'anno secondo me Guybrush sarà particolarmente bello perché io e Laura eravamo già stati anche all'edizione dell'anno scorso che comunque era stata una figata e però se vogliamo era un po' l'edizione zero e quindi un tentativo un tentativo che era riuscito molto bene e quindi gli organizzatori di Plan Bolo quest'anno hanno voluto appunto puntare di brutto su questa iniziativa e perché questa iniziativa è particolare perché non è che è un pomeriggio al parco di Bologna in un parco di Bologna con dei bitcoin come ne abbiamo fatti tanti esatto non è un meet up è molto di più perché appunto in questa cornice dei giardini Margherita ci sono tutta una serie di stand fissi che vendono appunto birra cibo pizze hamburger eccetera 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 chioschi food truck stabili però chioschi che di per sé già loro tutti quanti accettano bitcoin e quindi è un'occasione straordinaria per poter questo è come mi immagino io il paradiso sincerato dai io quando morirò finirò in un posto in cui posso mangiare l'hamburger pagare in bitcoin per l'eternità per l'eternità e questo vuol dire che devi accumulare un sacco di sazza perché insomma per l'eternità effettivamente adesso che ci penso è impegnativo caro amico mio quindi si sta lì si paga in bitcoin si chiacchiera si beve ci sono anche delle cose annesse connesse nel senso che ci saranno Martina e Laura che organizzano un mercatino di abiti in bitcoin e quindi singolarmente tutti coloro che partecipano e un po' i membri storici di Bologna che ha una gran bella community Bologna l'ho sempre detto io che secondo me Bologna e Torino stanno facendo un testa a testa Bologna ha un'ottima adozione ci sono tanti attività che accettano bitcoin a Bologna tanti bitcoiner che si trovano a Bologna per organizzare iniziative interessanti questa sicuramente è una delle più interessanti e ho come l'impressione lo dico a tutti quanti a tutti coloro che sono all'ascolto che quest'anno sarà incredibilmente molto partecipata perché mi giunge voce di gruppi e comitive di persone che stanno organizzandosi si sono organizzati per venire in gita a Bologna anche da regioni che vanno ben oltre l'Emilia Romagna che bello e quindi insomma mi aspetto grandi cose noi ci saremo io ci sarò con Laura e quindi se volete venire mi raccomando è totalmente gratuito si tratta di passare un bel pomeriggio in compagnia di altri bitcoiner in un contesto veramente carino come quello dei giardini Margherita farsi trovare pronti con un bel lightning wallet carico con qualche satoshi per poter appunto acquistare da mangiare da bere e chiacchierare tutto il giorno vi aspettiamo sabato 29 pomeriggio plen bolo 2024 come si dice in Emilia Romagna Gaibras Sotsmel esattamente così era questo ho sparato a caso e vabbè dai ho sparato a caso vabbè 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 senti Gaibras ci sono anche tante altre novità questa è bella questa è grosso puntata ricca di novità perché sempre di appuntamenti pensati appunto per fare community ed approfondire bitcoin divulgare bitcoin dobbiamo parlare brevemente del bitcare forum che è stata la conferenzona tutta italiana su bitcoin che si è chiusa in realtà da pochissimo da qualche settimana cos'è un mesetto un mesetto abbondante dai è aprile no 11 maggio 11 maggio un mese e mezzo dai un mese e mezzo un mese e mezzo che è stato un successo clamoroso ve l'abbiamo già raccontato ai nostri microfoni noi abbiamo collaborato ci ha chiamato steven spilberg per fare il sequel esatto ci ha chiamato steven spilberg per fare il sequel a cui stiamo già lacrimente lavorando bitcare forum 2 no 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 si chiamerà sempre bitcare forum ma 2025 per quello che sarà la prossima edizione che sarà più grossa più grossa più ricca come l'iPhone tutte le volte che lo rifanno più grosso più cazzuta più tutto ok e soprattutto Guybrush dobbiamo dare un annuncio ufficiale formale che ci rende profondamente orgogliosi non so niente ma che ci responsabilizza anche non so niente ma come fai non sapendo niente ebbene sì Guybrush ebbene sì cari amici all'ascolto abbiamo stretto un accordo abbiamo scritto un chain un accordo con il bitcare forum esatto e saremo come si dice curatori della manifestazione ma come direttori artisti come Carlo Conti a Sanremo io lo so che tu così sublimi uno dei tuoi sogni più scusate io allora io lo so se tu vuoi fare Carlo vuoi fare Conti comunque in generale saremo il Carlo Conti del bitcoin del bitcare forum saremo i Carlo Conti del bitcare forum ringraziamo tantissimo Gigi Turla e tutto lo staff apicale del bitcare forum per averci fortemente voluti come appunto responsabili di ciò che vedrete l'anno prossimo sui palchi del bitcare forum noi ci sentiamo sia onoratissimi da un lato ma anche molto responsabilizzati perché ragazzi stiamo preparando delle cose abbiamo già avviato dei think tank incredibili davvero expect the unexpected per quello che riguarda il prossimo bitcare forum ci piaceva dare ufficialità di questa cosa quindi sulle frequenze digitali del bitcoin italia podcast presto comincerete a sentire tutte le novità riguardanti il bitcare forum che a questo punto sarà potenziato turbo charged dal bitcoin italia podcast e non vediamo l'ora appunto di cominciare a svelarvi qualche cosina di quello che abbiamo in servo per voi bene bene sono contenti felicissimo di questa cosa settimo cielo ottavo cielo non c'erano l'hanno fatto l'ottavo non lo so però sai che non c'è mai limite non c'è mai limite al cielo eh caro mio senti cambiamo tono iniziamo in realtà abbiamo già iniziato perché sai che queste cose sono comunque sempre cose molto interessanti no fammi dire una cosa a cui tengo in maniera speciale vorrei fare un abbraccio mi faccio un po' greve perché vorrei abbracciare tantissimo il mio amico Felix Mukungu che di cui avete sentito chiacchierare che ho conosciuto che si è occupato e preoccupato di me durante il mio recentissimo viaggio in Kenya a Nairobi e che è la mente dietro The Core 21 quel progetto educativo rivolto a Kibera lo slam di Nairobi che vi ho portato a visitare con me non tanto qualche mese fa perché caro Guy Brosham non so se hai sentito che quello che sta accadendo a Nairobi proteste in piazza contro la volontà da parte dei governanti del presidente del Kenya di aumentare la pressione fiscale a tutto tondo per cercare appunto di dare un impulso all'economia un'economia ovviamente è una popolazione già di per sé molto vessata dalla situazione economica e le proteste quindi sono state praticamente immediate Nairobi appunto invasa da questo fiume di manifestanti assolutamente e totalmente pacifici e la polizia Kenyota che pensa bene di sparare contro i manifestanti purtroppo ci sono state decine e decine di morti e anche mio caro amico Felix che era sceso in piazza con un cartello che dice I propose bitcoin come soluzione per rilanciare l'economia Kenyota anziché la pressione fiscale inutile per poi andare ad ingrassare le tasche dei governanti e degli ufficiali Kenyoti noti in tutta l'Africa per la loro corruzione lui appunto è sceso in piazza con tanti altri giovani col suo cartello I propose bitcoin e purtroppo anche lui è stato coinvolto negli scontri ferito non in maniera l'ho sentito poc'anzi quindi vi porto delle notizie freschissime ferito non in maniera grave si sta curando è stato medicato e quindi tutto bene non è in pericolo di vita né niente guardato mentre lo raccontavi sono andato sul suo profilo ho visto il cartello che dici tu e sai cosa mi è venuto in mente la famosa foto di piazza Tiananmen queste cose passeranno la storia così secondo me tra 50 anni verranno riviste così eh sì probabilmente sì e quindi niente abbiate pazienza ci tenevo tantissimo anche se non ci sentirà perché ovviamente non parla italiano però in fondo è il gesto che conta la totale solidarietà nostra all'amico perché è davvero un amico Felix che con coraggio ha provato a proporre bitcoin come soluzione per il suo paese ed è rimasto appunto coinvolto e anche ovviamente la nostra totale solidarietà alle famiglie di tutti coloro che ci hanno lasciato letteralmente le pelle le penne perché purtroppo è così che vanno queste cose nel frattempo un aggiornamento rapidissimo anche però a causa dello scandalo internazionale che la reazione violentissima della polizia ha causato la legge è stata stralciata il presidente ha dichiarato che non la firmerà e ciò nonostante sono previste altre proteste nei prossimi giorni soprattutto in Nairobi perché a questo punto la gente è giustamente incazzata chiede le dimissioni del presidente del Kenya sulla base anche appunto della smodata reazione delle forze dell'ordine vi lascio nelle note dell'episodio il link al profilo X di Felix se volete dargli un follow e magari mandargli un messaggino di solidarietà dall'Italia dopo aver sentito il Bitcoin Italia podcast so per certo che Felix ne sarà felicissimo il suo progetto educativo si può sempre supportare ovviamente con donazioni lightning anche pochissimi i soliti 21 saz fanno una grande differenza quindi considerate di supportare il progetto educativo e Felix e ragazzi a tutti i kenioti all'ascolto o che hanno parenti in Kenya non mollate non passaranno se siete stanchi di essere vittime di queste situazioni anche voi come i nostri amici kenioti prendete il controllo del vostro denaro del modo in cui trasferite valore alle persone agli altri esseri umani e acquistate i vostri primi bitcoin pocket bitcoin è la risposta acquistate bitcoin direttamente dal vostro conto bancario e conservateli nel vostro wallet personale che potrebbe essere sia l'app di pocket bitcoin che trovate negli store che ha tutti gli effetti un wallet non custodial quindi avrete le vostre chiavi private oppure trasferiteli a un wallet o al vostro sistema di self custody che preferite per farlo è facilissimo potete andare sul sito pocketbitcoin.com o scaricare l'app e creare un ordine di acquisto vi verrà chiesto di fornire solo un indirizzo email che può essere anche un indirizzo email creato apposta per quella transazione quindi una procedura che noi definiamo KYC lite quindi non aggiunge niente a tutto quello che avete già dato alla vostra banca e quando creerete il vostro ordine di acquisto vi verrà fornito un IBAN e un codice causale voi effetterete il bonifico e i vostri primi satoshi o i vostri satoshi ricorrenti vi verranno accreditati al vostro wallet di maggiore preferenza quindi secondo noi pocketbitcoin è il modo migliore più facile il miglior compromesso come diciamo sempre per facilità di utilizzo sicurezza e trasparenza per l'acquisto dei vostri bitcoin bitcoin is freedom money del resto caro amico mio a proposito di freedom libertà abbiamo finalmente un risultato chi l'avrebbe mai detto che avremmo dato questa notizia nell'edizione del 2024 del Bip Show nella stagione è bellissimo io mi sono anche mezzo emozionato sono anche mezzo emozionato adesso anch'io anch'io di che cosa stiamo parlando va bene non è un segreto immagino che lo saprete tutti ma è finito il calvario nella prigione di massima sicurezza britannica del CEO di Wikileaks uno dei più noti cypherpunk al mondo ovvero Julian Assange la notizia la data Wikileaks stessa praticamente in contemporanea abbiamo anche seguito addirittura il suo volo no sì è vero l'hai visto ho imparato seguendo il suo volo dell'esistenza di un Commonwealth americano non so se tu lo sapevi è interessante sta roba tu lo sapevi prima di questo no assolutamente allora praticamente le isole marianne nel pacifico nel pieno del pacifico sopra le isole di Guam quindi un altro stato fanno parte di questo Commonwealth del cui fanno parte Porto Rico e appunto le isole marianne e lì c'è un aeroporto sull'isola di Sempai che ha tutti gli effetti territorio statunitense quindi lui ha fatto scalo lì da Bangkok ha fatto scalo a Sempai e lì è atterrato in territorio statunitense per poi andare effettivamente ufficialmente in Australia quindi il motivo era dovevano fare di fare un passaggio sugli Stati Uniti anche se nella regione più remota più cacata cioè probabilmente avrebbero potuto anche farlo passare in una stazione scientifica dell'Antartide però per farlo passare negli Stati Uniti e probabilmente scambiare qualche scartoffia con il suo staff non lo so che cazzo hanno fatto in quell'aeroporto lì però se cercate l'aeroporto di Sempai ho scoperto oggi esiste un aeroporto internazionale statunitense in mezzo al Pacifico che non sono le Hawaii ma è le isole Marianne e quindi da lì è riuscito ed è atterrato nove ore fa guardo ora il suo profilo è atterrato in Australia ed è finalmente a casa ed è finalmente atterrato Wikileaks ha chiesto ufficialmente a tutti coloro che si sono impegnati per che hanno manifestato che hanno sostenuto la causa di Julian Assange di seguire ha pubblicato in diretta il flight tracker del suo volo perché appunto si temevano sorpresucce magari da qualche rogue agent della CIA e invece così non è stato in milioni e milioni hanno seguito il volo di Julian durante tutti i suoi scali verso l'Australia ed è stato secondo me veramente emozionante vederlo proprio in diretta scendere e toccare con mano il territorio australiano che quindi per lui significa libertà salutare la folla che comunque si era radunata ad aspettarlo incamminarsi verso il termine dell'aeroporto terminal dal quale è uscita Stella Assange che gli ha buttato le braccia al collo e si sono dati pubblicamente giustamente vista l'emozione del momento un lungo bacio e lì anch'io ti devo dire la verità mi sono commosso perché comunque non puoi non empatizzare nei confronti di una persona e di una famiglia anzi perché poi ovviamente subito dietro Stella c'era il padre di Julian che abbiamo visto anche lui spendersi tantissimo in questi anni per perorare la causa della liberazione del figlio e insomma è stato davvero un momento toccante emotivamente molto toccante il più grande forse pacifista dei nostri tempi ce ne sono tanti c'è Mandela c'è Gandhi e c'è secondo me Julian Assange in quel gota lì di persone che hanno messo in evidenza hanno fatto emergere il concetto uno delle sue grandi mantra è che lui dice sempre che se le guerre possono nascere dalle menzogne la pace nasce dalla verità e lui ha sacrificato 15 anni della sua vita per cercare di diffondere questo messaggio perché è stato in esilio per 15 anni ce lo ricordiamo chiuso in tutta una serie di ambasciate per evitare l'arresto di questi 15 anni però ricordiamolo 5 passati in un carcere di massima sicurezza il carcere di Belmarsh oltretutto detenuto anche in uno stato di semi isolamento quindi carcere duro ragazzi ora passata l'ubriacatura e la felicità del momento dobbiamo però necessariamente riprendere Gai Bras il nostro aplomb e fare alcune considerazioni con più laicità ecco mettiamola così perché questa liberazione non è stata frutto della generosità del governo degli Stati Uniti d'America ha avuto un costo un costo che quindi Julian e il suo entourage hanno deciso a questo punto di pagare è un costo piuttosto elevato perché in realtà per chi non avesse approfondito l'escamotage che è stato trovato per fare uscire Julian Assange dal carcere l'accordo che è stato fatto quindi di fatto col governo degli Stati Uniti ha previsto che Julian Assange si è dovuto dichiarare colpevole di un'accusa una e una sola accusa quella di spionaggio ricordiamo che sul capo di Assange in realtà pesavano tutta una serie di accuse 18 capi di accusa totale avrebbe potuto rischiare di fatto diversi ergastoli mi pare 200 anni 175 anni 175 anni di reclusione perché negli Stati Uniti una delle cose più stupide del sistema legale è che l'ergastolo non considera la fine vita ma loro ti danno anche tipo 200 anni di prigione non si sa mai che metti caso che c'è qualche breakthrough medico pazzesco sono previdenti è quel pragmatismo tipico americano insomma comunque in cambio appunto di Assange che si dichiara colpevole di spionaggio gli è stata comminata una sentenza di reclusione che in realtà equivale perfettamente al tempo che Julian Assange ha già trascorso in prigione presso appunto il carcere di massima sicurezza di Belmarsh quindi praticamente c'è proprio un accordo cioè è stato proprio un accordo tu ti dichiari colpevoli di spionaggio noi ti diamo esattamente i giorni che tu hai già trascorso 1901 giorni di reclusione ragazzi e così di conseguenza sulla base di questo accordo puoi uscire questa cosa qui è una cosa che ha fatto storcere il naso a qualcuno perché comunque la speranza la grande speranza di quelli che hanno a cuore la causa della libertà di espressione del diritto a dire la verità del diritto di fare giornalismo era che gli Stati Uniti d'America finalmente si decidessero a lasciar cadere le accuse allora secondo me non sarebbe non era auspicabile proprio il fatto che l'amministrazione Biden in questo momento potesse diciamo far decadere totalmente le accuse soprattutto dopo le le avance ridicole che secondo me ridicole mettiamola così che Donald Trump l'avversario diretto nelle prossime elezioni ha fatto verso Rolls-Hulbrick quindi il tema delle elezioni americane significa che due deficienti si diciamo si combattono su temi diversi due vecchi deficienti devono combattersi su due temi differenti quindi il tema in questione è la libertà la libertà di stampa di espressione la libertà di mercato quindi Donald Trump ha fatto l'endorsement di Ross Ulbrick ve l'avevamo raccontato due puntate fa e in questo momento Biden doveva trovare il suo quindi secondo me una situazione in cui l'amministrazione tu dice campagna elettorale anche questa per i democratici secondo me l'argomento sì secondo me sì cioè l'argomento Assange verrà tirato fuori o forse non verrà neanche tirato fuori perché ormai Trump e il suo staff sa che se tira fuori di nuovo se prova a usare di nuovo come argomento elettorale Ross Ulbrick Biden ha la superarma che dice la mia amministrazione in realtà ha liberato Assange quindi tu che cazzo vuoi tu non hai fatto niente hai fatto solo promesse vacue io ho liberato Assange quindi dal punto di vista governativo non mi aspetto niente e non voglio neanche immaginare che smarciate hanno fatto oltre a quelle che Assange ha già sbugiardato grazie a Wikileaks probabilmente ce ne sarebbero altre da sbugiardare anche per la sua liberazione la cosa però secondo me brutta che emerge dalla storia sono felicissimo per lui e noi dobbiamo raccogliere il suo testimone soprattutto perché ci ha insegnato tutta la vicenda Wikileaks che centralizzare qualsiasi cosa dare potere a poche persone di qualsiasi cosa in questo caso l'informazione è una malattia è una malattia degenerativa è una cosa che peggiora nel tempo chi detiene questo potere prima o poi ne abuserà bitcoin va in quella direzione lì noi stiamo cercando di togliere potere da un centro nevralgico e ridistribuirlo in modo che nessuno ne possa abusare come ne è stato abusato nel campo dell'informazione nel campo finanziario ma in generale la parte brutta è il fatto che lui fondamentalmente si è sparato 15 anni di vita di inferno senza mai essere effettivamente giudicato senza essere mai diciamo passare per un normale e democratico procedimento legale quindi se vieni accusato di qualcosa devi poterti difendere in realtà gli hanno tolto 15 anni e gli hanno dato questa grazia per bontà divina che vabbè per lui va tutto bene io sono contento per lui per chi verrà dopo di lui per chi vorrà farsi carico per i giornalisti che vogliono fare il loro lavoro è un brutto messaggio perché significa che se tu vuoi dire la verità quando la scopri sai che rischi di passare quello che ha passato lui esatto hai ragione sono d'accordissimo al 100% con te su questa cosa non è una vittoria in realtà perché comunque paradossalmente Julian Assange in questa vicenda è una pedina nel senso che l'obiettivo delle elite mondiali e dei governi del mondo non è abbattere Julian Assange non è mai stato abbattere Julian Assange in quanto Julian Assange ma intimidire i whistleblower intimidire gli attivisti intimidire le ONG come Wikileaks visto cosa succede se fate così ecco questo è quello che succede esatto e quindi da questo punto di vista purtroppo non possiamo far altro che ammettere al nostro avversario perché noi ci sentiamo di avversare convintamente questo tipo di di oligopolio e di monopolio anzi l'obiettivo è stato perfettamente centrato c'è un whistleblower oggi che si trova ad avere a che fare con documenti scottanti si caga in mano come è giusto che sia perché ricordiamoci poi che durante tutto il procedimento penale e tutto il calvario di Julian Assange non c'è stata prova che una sola delle rivelazioni di Wikileaks fosse stata non fondata o falsa questo è il messaggio brutto anche se dici la verità ma noi non vogliamo te la facciamo pagare esatto questo è il messaggio brutto e possiamo farlo lo strumento che forse Assange non aveva perché alla fine Wikileaks è un progetto che parte prima di Bitcoin parte nel 2006 il video che l'ha fatto tutta l'attività parte nel 2006 il video che proprio ha fatto emergere sui radar è quello che io penso sempre che accadrà sui social network tipo Nostra è così la prima persona che pubblicerà su Nostra il video di un aereo americano che uccide dei civili quello che ha fatto Wikileaks allora lì partono le inculate scusate il francesismo partono i problemi e questo è quello che è successo a lui nel momento in cui lui ha avuto prova tangibile di una cosa di una perversione che può essere io non sto dicendo che la sicurezza non è funzione di informazioni segrete ma quando qualcuno sbaglia quando si sbaglia quando succede qualcosa bisogna pagare non è che passa tutto in cavalleria in funzione della sicurezza nazionale perché sennò siamo uguali a quelli che compiono i crimini e i reati allora lui che fa il giornalista che ha deciso di fare il giornalista e chi per esso Chelsea Manning che non si sentiva più in grado di mantenere questo segreto hanno pubblicato queste cose secondo me è strano il fatto che lui sia stato punito con 15 anni di reclusione illegittima e invece chi ha perpetrato il governo degli Stati Uniti l'esercito degli Stati Uniti ha perpetrato quel danno in realtà passa indenne quindi noi stiamo a puntare il dito verso di lui perché diciamo lui ha rivelato informazioni classificate ma non puntiamo il dito verso chi ha compiuto quelle azioni classificate che non si sono mai dimostrate in nessun momento false e che sono totalmente illegittime ovvero sono stati uccisi di civili crimini sono crimini e quindi questo è brutto questo è brutto però aspetta posso rilanciare su questo punto qui perché c'è un altro cortocircuito logico cognitivo che a me fa veramente sciogliere il cervello se avete voglia amici a casa di perdere ore e ore di sonno andate a leggere i commenti dell'italiano medio per esempio sotto gli articoli della stampa mainstream che danno una notizia traditore ha violato i segreti di stato doveva marcire in galera l'eroe dei pupazzi cioè ho letto delle robe Guybrush che veramente lo so ma anche non solo i commenti anche giornalisti madonna mia anche giornalisti libero si è lanciato in delle robe che va bene e certo anche giornalisti mainstream ma il cortocircuito cognitivo la roba che a me fa venire voglia di fare le valigie ma per Marte per un altro paese mica per le isole Cayman perché è proprio un problema del genere umano è che quelle lì che rivendicano sostanzialmente il diritto alla privacy del governo come monopolista come come leader no? sono gli stessi che negano il diritto alla privacy del cittadino ecco allora c'è veramente un cortocircuito totale da questo punto di vista e cioè sono quelli che ti dicono a me della privacy non me ne frega niente quando è la mia eh no però i segreti di stato sono privati eh questo è un crimine Giulia Nassani per la sicurezza perché con l'alibi della sicurezza vengono da sempre giustificate le peggio porcate di sempre perché perché la sicurezza contrasta la paura l'innata paura dell'essere umano l'essere umano ha paura dei pericoli e quindi vuole sentirsi protetto chi riesce a convincerti che ti darà questa sicurezza può convincerti di poter fare le peggio porcate ripeto come dice lui come dice Giulia Nassange le guerre partono dalle bugie solo la pace può partire dalla verità cosa c'entra bitcoin con tutto questo comunque mi piace chiudere il cerchio rispetto a tutto quello che ha fatto Wikileaks iniziando ve l'avevo raccontato mille volte questa cosa è stato uno dei primi a iniziare a raccogliere bitcoin come donazioni per diciamo aggirare i blocchi che sappiamo i governi mettere in atto verso le forze che li contrastano quindi la prima cosa che fai quando dici una cosa che non piace al governo è che ti bloccano il conto Wikileaks iniziò ad accettare bitcoin ma il cerchio si chiude perché è bellissimo secondo me il volo che Assange ha dovuto pagarsi per la scusate il volo che ha portato Assange in Australia bellissimo in realtà se lo doveva pagare lui ma per questioni di sicurezza mi è sembrato di leggere non ho capito cioè lui non ha gli è stato vietato di viaggiare con voli di linea e quindi ha dovuto pagarsi un charter privato doveva pagarsi un charter privato del costo di mezzo milione di dollari Stella sua moglie ha fatto un appello e un anonimo donatore ha donato otto bitcoin spam proprio capito spam così ha fatto che hanno coperto in un secondo in uno schiacchi di dita i costi per portare Julian Assange a casa sua quindi il cerchio si chiude bitcoin è uno strumento per proteggere la libertà per proteggere le persone che a volte si sacrificano per la libertà passando da il tuo amico Kenyota che mi dispiace felix certo arrivando a più in alto Julian Assange il concetto è questo qua fammi dire un'ultima cosa a questo punto Julian è convintamente un bitcoiner non vedo l'ora di vederlo e magari di stringergli la mano al prossimo Oslo Freedom Forum o a qualche grossa conferenza bitcoin magari una di quelle che sistematicamente in questi anni hanno invitato Stella e il padre a perorare la sua causa davvero il selfie con Julian Assange si che lo voglio altro che col nano di Michael Saylor o di Jack Muller è vero è vero non ci avevo pensato che adesso è libero e può venire è vero comunque ragazzi il futuro è inarrestabile il futuro dei pagamenti internazionali incensurabili è bitcoin ed è pertanto il motivo per cui la vostra attività che sia un'attività fisica o che sia un'attività online deve dotarsi il prima possibile degli strumenti necessari per poter accettare bitcoin lo strumento migliore per farlo in italia è bpay il servizio che consente di accettare in pochi minuti bitcoin onchain o lightning l'applicazione bpay infatti diventa il boss del vostro negozio ma soprattutto bpay è anche già pronto per essere implementato nel vostro e-commerce nel vostro negozio online e questo significa allargare il vostro bacino potenziale di clienti a decine centinaia di milioni di bitcoiner che vogliono ovunque nel mondo pagare per beni o servizi in bitcoin non aspettate altro tempo bitcoinpeople.it è il sito di riferimento andate lì sopra per informarvi meglio su tutte le straordinarie opportunità che bpay vi può offrire e soprattutto compilate il form a pie pagina per ricevere una consulenza gratuita dallo staff di bpay il modo migliore per proiettare la vostra attività nel futuro to whom it may concern dice l'ultimo documento inviato da mountaingox.com o signore la mountaingox food comunque probabilmente agli occhi della storia sarà una delle più lunghe quant'è che ancora ci dobbiamo martellare gli zebedei con questo benedetto exchange questo dice una cosa lunga sul fatto di quanto sono lunghi i procedimenti legali cioè tu vieni metti che efficienza gli stati che efficienza gli stati esatto e quindi sono dieci anni ormai sì perché febbraio 2014 è stato successo l'hack loro hanno sospeso il trade quindi dieci anni tondi tondi abbondanti quindi cosa sta succedendo vi starete chiedendo come mai il prezzo di bitcoin è morto vendete tutto è tutto finito vendo tutto basta come mai come mai tra le tante ipotesi ci sono un dump e questo passerà in cavalleria un dump del governo tedesco che ha iniziato forse a vendere dei bitcoin dopo dei sequestri per attività illecite ma soprattutto il problema mountain gox riassunto breve che cos'è mountain gox mountain gox è il primo exchange grosso che noi chiamiamo mountain gox perché la sigla l'acronimo è mt gox ma in realtà sarebbe l'acronico di magic the gathering online exchange quindi magic the gathering mt game online gox exchange x nasce è un sito che nasce come appunto come dice il nome sito di trading per le carte di magic ma in realtà il fondatore a un certo punto mangia la foglia su bitcoin molto prima di noi di tutti noi e dice ma guarda che bello strumento questo qua forse inizia a fare ad abilitare il trading sul mio sito ha un grandissimo successo però il problema è che nel 2014 subisce un hack grave chiude e sospende tutti gli scambi partono le richieste di rimborso di tutti i clienti tra l'altro clienti clienti diciamo importanti tra cui anche Gregory Maxwell Adam Beck Roger Ver gente che all'inizio i primi che hanno compreso è stato il proto exchange esatto quindi tutti gli OG della prima ora che non avevano che non avevano magari voglia o possibilità di minare perché già comunque in quegli anni lì non è che lo facevi proprio col tuo computer di casa anzi e andavano a comprarlo lì esatto succede un hack qualcuno riesce a non è stato proprio un hack anche questo l'abbiamo già raccontato comunque breve riassunto è stato trovato da un utente un modo per fare una sorta di double spending all'interno dell'exchange quindi effettuare un trading ma non accreditare questo scambio effettivamente sul proprio conto quando se ne accorgono gli fondatori chiudono tutto e fanno denuncia e parte il procedimento legale bla 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 siamo a quanto pare alla fine del procedimento legale quindi solo dieci anni ci sono evoluti per arrivare alla fine di questo scartoffiamento legale e quindi cosa succede alcuni di questi fondi sono stati recuperati e a quanto pare partirà il cosiddetto refund cioè il rimborso agli utenti perché questa è una food cioè una notizia che porta dubbi paura dubbi e incertezze sul mercato perché perché quelli che avevano accumulato bitcoin in quel tempo li hanno accumulati quando bitcoin valeva pochissimo valeva 300 dollari 400 dollari quindi magari parliamo di conti di 10 bitcoin 100 bitcoin cosa così che con il prezzo attuale si parla di cifre di milionate di dollari e quindi tutti pensano e beh quando verranno rimborsati le vittime di questa frode di questo hack tutti questi vorranno subito monetizzare la loro diciamo la loro self-cast di involontaria quindi quello che hanno perso e quindi ci sarà una vendita una pressione di vendita altissima sul mercato e quindi il prezzo di bitcoin scenderà solo la notizia di questa cosa ha provocato a quanto pare una pressione di vendita e quindi questo potrebbe aver causato il calo del prezzo di bitcoin la realtà dei fatti è diversa ovvero il mercato è abbastanza come dire infantile di solito il mercato si comporta come un bambino di 4 anni quindi quando vede e sei stato generoso e sei stato generoso quindi quando vede una notizia che potrebbe essere negativa tipo spengo la luce in camera subito parte la paura dei mostri ma in realtà i mostri non ci sono e questo è quello che ci fa ci fa notare un analista Alex Thorne che ci fa notare come la natura delle persone che hanno investito o hanno fatto avevano un conto aperto in quel momento su mountain gox è molto diversa da quello che potremmo avere oggi su un exchange odierno quindi non possiamo utilizzare gli elementi che abbiamo oggi per fare delle previsioni su come si comporterebbero quelle persone alla luce del fatto che soprattutto le persone che in quel momento facevano trading su bitcoin a parte al netto degli speculatori puri che anche su quello ci sono dei dubbi parliamo veramente di come dicevi tu gli OG e quindi effettivamente persone come Gregory Maxwell le Adam Beck avevano dei conti su mountain gox che hanno anche dichiarato di avere ok quindi questo è il primo punto il secondo punto è io però ce lo vedo Adam Beck che dampa tutto certo il secondo punto è è molto curioso questo hack è pre fork bitcoin bitcoin cash è certo quindi tutte le persone che avevano bitcoin in quel momento a un certo punto avranno nella linea temporale è certo anche bitcoin cash quindi lui dice guardate che il dump che avverrà maggiormente sarà più forte su bcash tutti svenderanno bcash ma vabbè ma è tutto troppo bello è molto bello è tutto troppo bello se si avvera questa analisi sarebbe molto bello io spero di sì Alex Thorne dopo troverete la sua analisi nelle note dell'episodio comunque l'idea è questa qui le persone che investivano in quel momento lui fa anche delle stime lui dice secondo me il 15% delle persone che avevano dei conti su mountain gox in quel periodo sono persone che vorranno semplicemente recuperare anche perché se vendi in quel momento lì loro ti danno i dollari per il valore di febbraio 2014 quindi la scelta è per te cioè aspetta non ho capito in che modo loro ti dicono tu sei riuscito a provare che quelli sono i miei bitcoin che tu avevi questi bitcoin in quel momento il momento in cui abbiamo sospeso gli scambi su mountain gox in quel momento bitcoin valeva 400 dollari quindi se vuoi noi ti diamo quei 400 dollari ok questo è il refund ok se invece no puoi tenerteli e fine lì poi tenerteli un bitcoin sì quello lì ok vabbè è ovvio che tutti sceglieranno no infatti lui fa la stima e dirà 15% dice recover il 15% non worth c'è tutta le sue stime di percentuali cioè tu mi stai dicendo che soltanto il 15% non ho capito quello che dice Alex Thorne è questo cioè Alex Thorne sostiene che secondo lui soltanto il 15% di quelli vorrà monetizzare subito il suo ecco sì vorrà ma certo ma alzi il 15% è tantissimo cioè che è quel coglione che si fa dare non lo so allora 15% vorrà monetizzare perché sì alla fine sì ci sta secondo me cioè c'è una io Ricky ancora non riesco a convincere persone che conosco da cent'anni e che ho capito ma quelli erano hanno acquistato il bitcoin nel 2004 ma magari lo hanno fatto perché non lo so sicuramente lo speculatore lui definisce per carità io ho smesso di stupirmi sull'imbecillità della gente alzo le mani completamente ecco non so cosa dire quindi l'idea è questa che effettivamente un dump su diciamo che fa più la notizia piuttosto che l'effettivo dump sell the news sell the news esattamente questo è forse il motivo per il quale il prezzo di bitcoin ha subito un ritracciamento come dicono gli analisti ragazzi ragazzi beepers all'ascolto come sempre in controtendenza con il resto del mondo che ci circonda noi arriviamo a dirvi anzi io arrivo a dirvi come ricchi sai che cosa c'è Guybrush meno male bene no Guybrush bene è una ottima notizia ragazzi più bullish non vedo l'ora di levarmi sta roba cioè è come quando ti strappi un cerotto è solo che ci metti dieci anni hai capito cioè strappandoti pelo per pelo no cioè non si può più aspetta però aspetta adesso smorzo il tuo entusiasmo no non dirmi che ci sono degli strasci no perché questa cosa parte da agosto cioè il refund parte da agosto quindi magari in agosto quando ci sarà di nuovo qualcuno che si vorrà rivendere tra l'altro io ho sempre questo ronzio nel cervello che è che gli etf cioè gli etf che stanno manipolando qualsiasi minchiata che possono manipolare perché il concetto dell'etf è io devo vendere ai miei investitori uno strumento che performa meglio dello standard del PUR 500 sostanzialmente è questo ormai lo standard degli investimenti perché tu ti rivolgi a un investitore o un fondo particolare perché se no tu dici vabbè ma io se lascio i soldi in banca mi danno il 2% che è meno dell'inflazione se compro i buoni di stato mi danno il 5% che è meno dell'inflazione se l'inflazione si attesta su 12% base anno lo standard and poor mi dà il 14% io metto i soldi lì e va facilissimo quindi un fondo mi deve dare più di quello che io farei semplicemente facendo l'investimento del deficiente comprando i titoli dell'indice standard and poor quindi le tf devono in qualche modo fare in modo di performare meglio come fanno per performare meglio su uno strumento che è totalmente deflazionario matematicamente scarso come bitcoin cercando in tutti i modi di comprarlo al minor prezzo possibile o perlomeno finché riescono poi sanno bene che questa cosa non è possibile portarla avanti in eterno quindi tutto quello a cui si possono appellare lo faranno secondo me cioè il JP Morgan di merda di turno Jamie Dimon di turno mentre va in tv a dirti che bitcoin è la moneta dei truffatori si fa dietro la schiena fa il gesto dei soldi all'italiana per intenderci perché lui dice io faccio scendere il prezzo e li accumulo io perché io ho il potere di fuoco gli ascoltatori del bip show si comprano quattro satoshi insieme ai produttori del bip show mentre noi ci compriamo tutto il resto quindi a me io mi mangio sempre perché secondo me dopo il lancio dell'etf stanno continuando a comprare di bitcoin a un prezzo scarsissimo e questo è il loro principale questo è il mio ronzio che ho nel cervello non posso provarlo ma può essere sicuramente perché poi che questi grandi player manipolino il mercato anche se teoricamente la legge dello Stato non lo permetterebbe lo sappiamo è una delle cose questa qua tu fai fare gli articoli a BBC fai fare gli articoli a Forbes fai fare gli articoli e così tutti dicono eh no cacchio bitcoin sta per scendere perché tutti venderanno bitcoin e quindi se lo comprano loro a un prezzo vantaggioso per i loro investitori tutto lì eh sì Guybrush comunque il netto di questo quando sarà sarà ragazzi good news leviamoci questo canchero di montaingox dalle balle prima possibile perché sono dieci anni non ce la faccio più quindi succeda quello che succeda voi state sereni barra dritta chicos cari amici cercate un modo sicuro affidabile per conservare i vostri bitcoin se lo fate bitcoin bitbox 0 2 è la soluzione perfetta per voi perché come vi abbiamo appena in questo istante raccontato gli exchange di criptovalute e di bitcoin sono vulnerabili agli hacker ai furti e eccetera eccetera quindi conservate i vostri bitcoin in un hardware wallet non su un exchange non su un computer non sul vostro telefono con una soluzione di archiviazione offline sicura e affidabile bitbox 0 2 è un hardware wallet che vi permette di conservare i vostri bitcoin fuori dalla rete proteggendoli da accessi non autorizzati e attacchi informatici è secondo noi il miglior compromesso tra facilità di utilizzo sicurezza e trasparenza dell'operato dell'azienda perché l'azienda opera in maniera totalmente trasparente emettendo il codice che è totalmente open source con il codice BIPSHOW potete anche acquistare un bitbox 0 2 un hardware wallet sul sito ufficiale bitbox.switch con il 5% di sconto esattamente tu sai che cos'è la Louisiana purchase Guybrush no non lo so davvero non lo sai allora mi sono appassionato al concetto di Louisiana in questi giorni perché ho apprezzato molto ma non so cos'è la Louisiana purchase la Louisiana purchase in italiano l'acquisto della Louisiana è un evento storico epocale perché pensa che è la singola acquisizione di real estate di terreno più grande nella storia dell'umanità dell'umanità ah ok e sono gli Stati Uniti d'America che comprano in dollaroni nel 1803 2 milioni 140 mila chilometri quadrati di territorio allora conosciuto come Louisiana francese e quindi che era la colonia francese nel nord america al costo di pensa inflazione 11 milioni 250 mila dollari cazzo ma quindi in bitcoin quanto sarebbe non te lo so dire però sarebbe il corrispettivo di 337 milioni di dollari statunistensi nel 2021 quindi tu pensa di quanto si è inflazionato il dollaro in poco più di due secoli è un grande classico delle valute fiat comunque perché ci siamo appassionati alla Louisiana amici perché io con grande tenerezza sono andato a leggere il blockchain basics act e devo dire che sono partito prevenuto perché di solito il legislatore che si pronuncia su questi temi è imbarazzante in questo caso devo dire che sono commosso in che senso cioè positivamente positivamente allora sono intenerito perché il testo è immaginati di descrivere a mio figlio adjustment la blockchain che ha tre anni e quasi quattro anni e io secondo me lui potrebbe descrivere bitcoin e lo strumento nel modo in cui lo hanno scritto in quello che passerà in agosto 2024 come blockchain basics act e cioè una serie di modifiche alle leggi della Louisiana dello stato della Louisiana che in qualche modo va a regolamentare quello che è il futuro l'utilizzo futuro delle CBDC delle Central Bank Digital Currency e di sistemi decentralizzati diciamo una super cazzola per definire bitcoin senza descrivere bitcoin perché parlano di nodi sistema decentralizzato eccetera eccetera quindi descriviamo bitcoin passaggi bellissimi allora sono è un testo che trovate sul sito ufficiale della Louisiana che non sapevo che ci fosse eh sì perché sai che lì ogni stato ha la sua ogni stato ha il suo sito ufficiale sono otto pagine sono bellissime io vi invito a leggerle è un pdf che troverete perché le prime due o tre pagine sono una un glossario quindi si definisce che cosa deve essere in maniera legale in maniera legalese una blockchain una central bank digital currency che cos'è uno strumento digitale che cos'è eh un nodo questo bellissimo un nodo definiscono legalmente che cos'è un nodo e lo definiscono così dicono nod means a computational device that does any of the following è un nodo è una è un strumento che fa le seguenti cose comunica con altri dispositivi o partecipanti alla blockchain per mantenere il consenso e l'integrità della blockchain quindi hanno studiato hanno capito hanno ascoltato il bitcoin anche loro certo del resto creano e validano transazioni contengono e aggiornano una copia della blockchain e poi il punto fondamentale secondo me un nodo non esercita discrezione non esercita potere discrezionale sulle transazioni iniziate da qualcun altro partecipante a qualche altro attore del network quindi stanno dicendo un nodo tu che fai andare il tuo nodo nella Louisiana non sei responsabile per quello che avviene sul network per i messaggi per le transazioni di quegli altri che arrivano sul network quindi questo cozzerà in qualche momento con tutte le micchiate che hanno è proprio quello sto pensando infatti guarda che c'è gente c'è gente che dice sostiene che su questo tema ci sarà la nuova guerra civile negli Stati Uniti perché il governo federale come abbiamo già raccontato noi ci stiamo riferendo alla definizione di payment processor di cui vi abbiamo parlato mentre vi raccontavamo del caso Wasabi e Tornado Cash e quindi su delle sentenze discutibilissime del tribunale di New York che appunto sostiene che anche se il payment provider non ha nessun controllo sulla transazione è comunque responsabile cosa che appunto va contro il concetto di open source la Louisiana invece dice no non è così il nodo non è uno strumento computazionale che non ha potere does not exercise discretion over transaction initiated by the end user quindi qua si dice il contrario quindi sarà interessante è molto interessante questa cosa qui non so se si arriverà davvero alla guerra civile però quando si parla di soldi negli Stati Uniti guarda che si incazzano forte l'altro punto molto bello di queste modifiche è la loro posizione rispetto alle CBDC e la legge recita così un'autorità governativa non dovrà mai partecipare ad alcun test di central base digital currency da parte del consiglio dei governatori quindi è vietato in ogni caso non solo l'utilizzo ma loro vanno addirittura prima a solo la prova cioè loro non vogliono neanche che si testi sul loro territorio all'utilizzo di una CBDC bello questo bellissimo sono contentissimo io sto valutando di trasferirmi in Louisiana in Louisiana c'è New Orleans caro amico mio che non è neanche un bel posto un brutto posto questa considerazione che tu fai sulle CBDC è molto interessante Guybrush perché in realtà se vogliamo fa il paio anzi contrasta nettamente seccamente con le notizie che arrivano dalla BCE che sta concretizzando quindi dalla banca centrale europea che sta concretizzando sempre di più il suo cammino verso invece la CBDC europea il digital euro l'euro digitale è tanto tempo sono settimane è tantissimo tempo che ci stanno lavorando però sono settimane che da questo punto di vista sembra essersi come dire infuocato l'argomento perché si parla di una sperimentazione prevista per l'anno 2025 quindi praticamente per l'anno prossimo si cominciano a delineare dei dettagli francamente angoscianti magari ne parleremo meno quando ci sarà parleremo meglio quando ci sarà un po' più di concretezza però girano dichiarazioni che parlano addirittura di tetto del contante si sta cercando di capire come fissare il tetto a quanto fissare il tetto del contante insomma tutto questo per dire che stanno andando avanti con questa cosa qui quindi capisci che il paradosso è che probabilmente avanti con questa tendenza l'unione europea avrà una CBDC rilasciata molto prima degli Stati Uniti d'America che ancora ne stanno dibattendo guarda che i repubblicani sono contrarissimi a sta cosa messaggio per i politicanti del nostro territorio leggetevi l'elementare il seppur elementare blockchain basis act che secondo me è un testo molto bello e prendete spunto per una vostra linea linea politica perché secondo me questa cosa va spinta cioè definire che un nodo non ha capacità discrezionale rispetto a una transizione che legge è una cosa che assomiglia a un diritto fondamentale cioè l'idea è che io mi faccio andare un cazzo di nodo di bitcoin e non sono responsabile di quello che accade così come non sono responsabile di quello di cui sono testimone se mi affaccio dalla finestra e guardo quello che succede posso dire che l'ho visto ma non posso essere considerato responsabile quindi la stessa cosa se noi vogliamo diventare o comunque rimanere al passo come Europa come stati come stati uniti d'Europa come Italia insomma come organi adesso voglio triggerare le varie fazioni come come nazione come gruppo di persone secondo me noi dobbiamo pensare a una soluzione politica lo so che noi siamo molto in ritardo nonostante abbiamo testimoniato diversi tentativi dei gruppi parlamentari di parlare di questo argomento però questo è un precedente molto semplice veramente molto semplice per iniziare a parlare di questo argomento e potrebbe essere un passo per diciamo contrastare quello che hai appena detto tu cioè questa idea del fatto che in Europa effettivamente il dialogo sulla CBDC è molto più avanzato rispetto ad altri non penso rispetto alla Thailandia o ad altri posti in cui che abbiamo anche raccontato ma rispetto agli Stati Uniti però vabbè però non possiamo mica paragonarci alla Thailandia cazzo voglio dire stiamo parlando dell'Occidente e come dire dei grandi player occidentali secondo me sarebbe io mi auspico che nel breve un gruppo politico possa usare queste cose come argomento anche qua da noi ma sì ma infatti ma oltretutto però vedi anche lì la politica quella reale come delute sempre ma tutti gli anti-europeisti dove sono quando c'è da fare le barricate contro questa cosa qui lasciamo perdere il colore della casaca nero rosso blu giallo verde ma qui abbiamo anche nel nostro paese degli esponenti politici che ci hanno smarronato gli zebedei con i loro deliri anti-europei e che adesso sono al governo e improvvisamente anziché utilizzare questi argomenti per andare a infilare delle spine del fianco dell'unione europea sono lì totalmente subini e subini e azzerbinati che vanno lì a discutere delle poltrone al parlamento europeo mi siedo io mi siedi tu e poi la gente gli cadono le balle così stati uniti d'europa non può essere uno strumento non può partire da uno strumento di controllo finanziario totale cioè non può essere questo può essere tante altre cose ma sicuramente questo no ed effettivamente nessuno di quelli che parlano di questa cosa ha mai pensato di contrapporsi rispetto a questa proposta che va avanti indiscussa effettivamente al momento è indiscussa procede nessuno dice un cazzo e si va avanti così probabilmente come si dice dalle mie parti quando l'acqua tocca il culo si impara a nuotare quindi quindi probabilmente quando accadranno i primi episodi di preoccupanti di repressione dello strumento comunque fanno pensare allora ci muoveremo sarebbe bello non arrivare a quel punto anche perché di allarmi di avvisaglie di esempi ne abbiamo tantissimi tra cui anche per esempio questo testo della Louisiana che trovate nelle note dell'episodio e che a questo punto mi dici che è un testo da tenere sul comodino secondo me sì perché è semplice è molto semplice è elementare ma è come è elementare una carta dei diritti cioè partendo dai diritti fondamentali cioè si parte dai piccoli per dirti self-hosted wallet pagina adesso te la leggo pagina 4 paragrafo 8 self-hosted wallet si dice che cos'è un self-hosted wallet si dice cosa può fare cosa non può fare a digital interface che è usata per fare queste due cose trasferire e conservare strumenti digitali e mantenere il controllo questo è importante sugli strumenti digitali posseduti dal by the owner dal posseditore quindi in questo atto legislativo che parserà nella Louisiana dal 2000 dall'agosto 2024 si dice che tu che hai il tuo hardware wallet il tuo bitbox 0-2 sei il principale sei l'unico possedente di quello che conserva poi dopo non si entra nel merito della matematica del caso chiaramente ma secondo me è una base importante è così che dobbiamo affrontare l'argomento è la prima volta che vedo neanche nel mica secondo me no grazie non è che hai fatto proprio un esempio virtuoso però per dirti cioè lo stato della Louisiana secondo me in questo caso fa scuola rispetto a quello che si dovrebbe definire in maniera legalese gli strumenti nuovi che emergono dal progresso della tecnologia che è bitcoin grandi grandi luisiani cari luisiani all'ascolto www.bip.show è il nostro sito internet lì trovate la sezione supportaci dove trovate diligentemente elencate tutte le modalità con le quali potete sostenere il nostro progetto di infotainment c'è il link amazon quello da cui dovete partire ogni volta che volete acquistare qualsiasi cosa su amazon basta accedere al sito da quel link e tutto quello che comprerete poi amazon ci corrisponderà una piccolissima percentuale a voi non costa un satoshi ed è comunque un buon modo per sostenere il nostro show poi ci sono le donazioni dirette quelle in fiat a mezzo paypal oppure le nostre preferite lightning o onchain in satoshi ciò che donate lo scegliete voi ogni quanto donare lo scegliete voi ciò che conta è che se siamo delle voci amiche se ci ascoltate ogni giovedì se vi divertite con noi se vi abbiamo fatto crescere se vi abbiamo fatto imparare dovete supportarci perché ragazzi perché è giusto non è che dobbiamo stare tanto lì a inventarci chissà quale figura retorica perché le cose di qualità nella vita vanno sostenute e se il nostro show lo ritenete di qualità quindi è giusto che voi lo facciate se poi siete i donor della settimana quelli più generosi c'è in paglio il titolo di mecenate che è appunto il top donor della settimana che questa settimana caro Guybrush è una donazione on chain che però è rimasta anonima anonima caro donatore io vedo in questo momento solo il transaction id nel nostro sistema quindi non sappiamo non ho trovato se hai rivendicato la tua donazione nelle nostre email quindi ricordatevi che se ci fate una donazione on chain a differenza di lightning non potete mandarci un messaggino quindi dovete necessariamente mandarci una mail a show chiocciolabip.show indicando il transaction id e dicendoci dandoci il vostro pseudonimo la donazione però che ha vinto il titolo di mecenate è la 84.113 satoshi che quindi vanno per il momento a un mecenate anonimo se poi senti la puntata e hai voglia di palesarti possiamo comunque aggiornare il tuo pseudonimo nel travertino digitale che quindi tanto travertino non è ma questo è un nostro segreto ragazzi delle note dell'episodio fate come anonimo mecenateci le curiosità del professor Gai Brasciazzi cari amici velocissimo perché siamo lunghissimi la curiosità del professor Gai Brasciazzi oggi è la storia dell'utente all in vain che ha perso la cifra non trascurabile di un miliardo e mezzo di dollari in bitcoin che cosa un miliardo e mezzo di dollari un miliardo e mezzo sì allora ma quando eh allora la storia è molto interessante praticamente lui nel 2010 capisce bitcoin come noi poveri stolti non l'avevamo ancora capito e quindi fa partire uno dei primissimi exchange un exchange per per modo di dire nel senso era una pagina in cui tu mandavi dei soldi mandavi dei bitcoin o dei soldi con paypal e lui manualmente ti rimandava o dei bitcoin o degli euro su paypal quindi era lui che lo faceva manualmente si chiamava bitcoin express ma all in vain questo utente che si è registrato su bitcoin talk con il nome all in vain era anche un miner e quindi all'inizio nel 2010 quando non c'era ancora le mining pool non c'era ancora l'aslo che aveva proposto il mining con le gpu minava con il suo computer quindi generava 50 bitcoin al giorno a sua detta mandava anche tra l'altro ai tempi non era neanche non faceva tesoro delle sue informazioni quindi mandava gli screenshot dei suoi miner insomma faceva vedere di tutto a un certo punto però nel 2011 c'è stato un boom che è probabilmente quando ho iniziato anch'io povero scemo a minare con slash pool e lui dice c'è un post su bitcoin talk molto bello che lui dice è come se anche tutti avessero iniziato a minare mamma papà e cugini e anche i propri cani avessero iniziato a minare proprio perché in quel periodo l'aslo aveva pubblicato su bitcoin talk il codice di quello che diventò il primo miner gpu quindi molto più potente di un computer normale e quindi la storia di all in vain va avanti va avanti va avanti fino a un certo punto nel 13 giugno del 2011 una transazione on chain documentabile trasferisce 25.000 dei suoi bitcoin 25.000 bitcoin a un altro wallet e lui posta su bitcoin talk un post strappalacrime in cui dice sono devastato questa transazione questa transazione non l'ho fatta io non so cosa pensare il suo caso diventa internazionale va anche sui mass media va su Forbes va sulla BBC perché parlano di bitcoin il primo furto da mezzo milione di dollari ai tempi 25.000 bitcoin valevano circa mezzo milione di dollari mamma mia dopo un po' esatto dopo un po' lui in realtà parla della sua analisi e dice che purtroppo l'errore è stato suo cioè che cosa è successo colpo di scena come diresti tu esatto lui ha tenuto sul suo computer ai tempi parliamo del 2011 quindi forse non c'era tutta l'attenzione che vi diciamo noi oggi aveva tenuto la sua seed phrase non cifrata sul suo computer ok non cifrata sul suo computer lui stesso cercando dei miner più performanti aveva scaricato un file da sourceforge o github in realtà quel file era un virus e da lì sono riuscito ad entrare nel suo computer lui all'inizio accusò quindi comunque glieli hanno inculati ma è stato lui leggero nella custodia delle chiavi private adesso ti dico un'altra leggerezza clamorosa lui aveva salvato il backup delle sue chiavi private su Dropbox vabbè c'è stato un momento c'è stato uno scandalo non so se li ascoltate se lo ricordano io me lo ricordo certo tu te lo ricordi Dropbox è venuto fuori che i dipendenti di Dropbox avevano accesso al contenuto dei file degli utenti allora lui in quel momento ha cancellato tutto da Dropbox e poi dice sicuramente è stato il fatto che da Dropbox cancellare un file non significava veramente cancellarlo loro avevano dei backup in realtà poi dopo ha comunicato a tutti che l'errore era stato suo lui aveva trovato gli indizi che portavano a una breccia nel suo computer e quindi questo è quello che succede a tenere le proprie chiavi non cifrate sul proprio computer utilizzate un hardware wallet non vi dico quale perché già lo sapete mamma mia pensa come ci si deve sentire a perdere tutti quei bitcoin 25.000 bitcoin fateci sapere se vi è capitato come vi siete sentiti all'indirizzo show chiocciola bip.show che è la nostra email oppure sulle nostre pagine social l'handle è sempre lo stesso bip underscore show siamo andati lunghissimi caro mio dalla Louisiana ai crateri e un attimo to the moon Kenya ciao ciao